ciao amici in questo primo video del 2018 vi mostro il supporto per trapano che ho scelto dal catalogo di banggood.com e la realizzazione di una semplicissima presa di corrente in grado di variare i giri di rotazione del trapano la realizzazione di corrente in grado di corrente in grado di corrente in grado di corrente la realizzazione di corrente in grado di corrente in grado di corrente in grado di corrente la realizzazione di corrente in grado 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 di corrente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.